Nel nostro ultimo episodio una trasmissione della nuova rete televisiva di Macross aveva casualmente attirato l'attenzione di Britai. Dopo aver ordinato alle sue navicelle ricognitrici di indagare, Britai ha ottenuto dei risultati che non rispondono esattamente alle aspettative. Le spie zentradi sono rimaste sconvolte da quanto hanno visto e per poco non sono rimaste uccise dal tenente Ray Canter. Le spie riescono a tornare dal comandante Britai con il loro rapporto. Indossavano dei piccoli indumenti militari e stare a guardare mi dava una estrena sensazione che non riesco a spiegare. Io continuo a sostenere che erano... Vede comandante, bro, credi che si tratti di un'arma segreta? Erano... E tu cosa credi che siano? Basta, fate silenzio, è ovvio che nessuno di voi sa di cosa sta parlando. Peccato che la registrazione sia stata distrutta. Credo che dovremmo inviare un'altra battuglia di riconoscimento. Io credo invece che sarebbe molto utile catturarne uno vivo, comandante. Da esaminare qui? Sì, comandante. Ma no, no! Non ci significa no? Vuol dire no! È un'arma, ve lo ripeto! Tu parli troppo! E tu non parlerai più! Smettetela immediatamente! Io non c'entro niente, signore. Sono stati bravo e ricco. Il fatto è che sono sicuro che quella che abbiamo visto è un'arma nemica, signore. E io non credo che abbia ragione. Io penso di sei un idiota. Basta con le chiacchiere! Vi era stata affidata una missione e avete fallito fuori qui! Alla ordine, signore! Dobbiamo risolvere le faccende e porre fine ai betevolezzi. Sono letali per il mondo degli uomini, signore. Hai ragione, ti sei espresso molto bene. Visto come stanno le cose, suggerirei di cominciare ad essere più aggressivi col nemico, signore. Sono sempre stato favorevole alle aggressioni. Penso che dovremmo discutere più a fondo di questa faccenda nel mio alloggio. Lo stress delle continue battaglie contro le forze aliene si fa sentire sull'SDF1. Molte apparecchiature non funzionano più correttamente. Tuttavia, il comandante Global è riuscito a far pervenire un messaggio radio al quartier generale degli Stati Uniti della Terra. Signore, sto ricevendo un segnale di risposta dal quartier generale della Terra. Così finalmente li abbiamo contattati. Molto bene. Lisa, puoi inserire l'audio, per favore? Sì, signore. Qui, quartier generale della Terra, all'SDF1. Parli pure, signore. Comandante Global, considerando la possibilità che la nostra sicurezza possa essere in pericolo e che questa trasmissione venga intercettata dal nemico, non posso darle le informazioni che aveva richiesto in merito ai nostri sistemi di sostegno. Fortunatamente le forze nemiche sono più interessate a seguire l'SDF1 che ad attaccare la Terra. Quindi le chiediamo di tenerli a bada e di non, ripeto, di non tornare sulla Terra. Servirà a farci guadagnare tempo e ad esaurire la loro energia. Passo e chiudo. Così pretendono che noi quassù si faccia da esca. Oh, mi scusi, signore, mi dispiace. Non si scusi, Claudia. Capisco bene quello che prova. Ma hanno bisogno di noi per poter guadagnare tempo. Quello che non riesco a capire è perché il nemico stavolta non abbia bloccato il nostro segnale di comunicazione. Finora hanno sempre cercato di bloccare le nostre trasmissioni. Il fatto è che si sono fatti furbi e cercano di intercettare tutte le informazioni possibili. A questo non avevo proprio pensato, comandante. Accato! Uno di meno. Bene, ragazzi, dobbiamo raggiungere la squadriglia dei testi adesso. Roger, Rick. Ti seguiamo. Perdo carburante, Rick. Ehi, che succede, Ben? Sembra che tu sia stato colpito. Eh, non è niente, Rick. È solo un graffio. Va tutto bene. Ah, sì? Ponte di comando. Qui è il tenente Hunter. La squadriglia Vermiglio è in fase di rientro. SDF-1 a caposquadriglia Varitec. Hunter, non vi è ancora stato accordato il permesso di rientro? Uno dei miei Varitec è stato colpito in pieno. Se l'aereo non è stato danneggiato troppo, tenente, preferirei che il suo gruppo restasse ancora in posizione. Rick, per ora il danno non è poi così preoccupante. Questo lo decido io. Sono io il capo e sono io il responsabile della sicurezza dei miei uomini. Riporto la squadriglia alla base. Vuole forse disopedire deliberatamente alle istruzioni ricevute? Major Ace, mi sembra che abbia dimenticato quello che ha imparato all'accademia. Non c'è atmosfera qui nello spazio. Anche il danno più piccolo potrebbe essere fatale. E anche se lei si sente perfettamente al sicuro e gioca con le nostre vite, mentre è sana e salva al suo tavolo di comando, io non ho intenzione di mettere a repentaglio la vita dei miei uomini. Ma chi crede di essere per farmi una predica, tenente Hunter? Adesso basta, Major Ace. Questa volta si dà il caso che il tenente Hunter abbia ragioni. Ora state a sentire. Squadriglia Vermiglio. Dovete tornare alla base immediatamente. Tenente Hunter, lei parla troppo. Come non detto, signore. Mi è stato ordinato di sparare un colpo di avvertimento oltre l'arco dell'SDF-1. Presta all'aria di essere un'altra delle assurde idee di Exeter. Se guarda caso hai proprio ragione. Come al solito l'idea lascia molto a desiderare. Io invece ho in mente qualcos'altro. Qualcosa che sarà molto più efficace di quello che ha in mente quel pazzo. Ma potresti metterti in una brutta situazione. Non ho alcuna paura di lui. E inoltre quello che rimette apparirà una cosa assolutamente accidentale. Cosa? Se io dovessi sparare il colpo di avvertimento proprio lì. Abbastanza in alto oltre il ponte. Casualmente potrei colpire la torretta radar. Adesso sarebbe una minaccia molto più efficace di un colpo di avvertimento. Sono stato piantato in asso. Oh, salve tenente Hunter. Chi sta aspettando? Beh, ecco io... Ha forse un appuntamento? Beh, sì, può darsi. È molto che aspetta. No, no, sono qui solo da un paio di minuti. Capisco. Lei è molto bella, non è vero? E come? Molto più che bella. Oh, bene. Vuol dire che è molto più carina di noi, allora. Non sarebbe molto educato fare dei paragoni. E allora deve essere proprio bella. Ma in questo caso io sono tagliata fuori. Ma cosa dici? Noi ragazze sole dobbiamo far fronte comune. Chiamata per il tenente Rick Hunter. Chiamata per il tenente Rick Hunter. Messaggio per il tenente Rick Hunter. È lei il tenente Rick Hunter? No, non sono io. Ehi, sono io Rick Hunter, sono qui. Grazie. C'è una telefonata per lei. Va bene, grazie. Qui è il tenente Rick Hunter, parlate pure, prego. Voglio scusarmi con te. Dovevi arrivare a Luna, cos'è successo, Min May? Sammy, non trovi che il suo viso sia familiare? È Min May, quella che è stata incoronata a Miss Macross. Ecco, la mia lezione di canto è stata spostata di un'ora e temo di non potercela fare. Non hai più trovato un po' di tempo per me da quando hai vinto quel concorso e sei diventata una celebrità. Questo significa che avrai lezione di canto tutti i giorni, vero? Mi dispiace Rick, ma devo fare così perché adesso hanno deciso di fare una registrazione con la mia presenza. Così stai iniziando una carriera grazie a tutto questo. Min May, abbiamo cose più importanti da fare che parlare al telefono. Su, cominciamo. Rick, ora devo andare. Iniziano le prove. Ciao. La squadriglia di Kyron ha preso posizione. Tutti i cannoni sono puntati e pronti. Comincerà a sparare tra dieci secondi. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, fuoco! Signore, il pianeta Pamir è stato distrutto. Sembra che il nemico stia conducendo dai test sulle armi. Tutti i sistemi in allarme giallo. Sì, comandante, tutti i sistemi sono stati posti in allarme giallo. Barriera a livello di difesa massima. Tutti gli scudi in azione. Barriera a livello di difesa massima. Un altro bombardamento in arrivo. Un altro bombardamento in arrivo. E ora possiamo spostare immediatamente il cannone in posizione di spara. Cannone puntato sulla torre radar nemica. Strano, comandante, sembra che la nave nemica spari di proposito oltre il nostro arco. Spareranno un colpo di avvertimento nella speranza di terrorizzarci. Fuoco adesso! No! Verremo colpiti, signore. E' finito! Credevo avessero smesso di sparare Cosa diavolo è stato, Lisa? Comandante, ci sono enormi frammenti del pianeta che ci vengono addosso Comandante, ho appena ricevuto il rapporto radar Dice che ci vorranno almeno cinque ore per passare attraverso la pioggia di frammenti di meteorite Sì, d'accordo, Vanessa Diamo un'occhiata con il radar a vasto radio Sì, signore Oh, sembra che il radar a vasto raggio non funzioni più, signore Che cosa? È una bella fortuna per loro che siano sopravvissuti E non è certo per merito di Chiron, si è spinto troppo in là questa volta Non fa niente, forse è stato molto meglio così, la nostra prossima mossa sarà più facile Certo, forse ha ragione lei A dire il vero sono molto curioso, continueranno a combattere anche senza radar? Stormi, regole, tarantole e spostarsi Gruppo d'assalto Rusciras, punto 3 in 7.000 Gruppo d'assalto Armesta, punto 4 in 10.000 Sequenza di comando 3-5-Z Tutte le unità di assalto devono essere pronte in posizione 12.000 La codificazione è già stata completata Un momento Se il signore è stata completata possiamo trasmettere Molto bene Una volta posizionati, Mekka inviare il messaggio Sì, signore Oh no! Quello è il robot del tenente Hunter, vero? Anche il danno più piccolo potrebbe essere fatale E anche se si sente perfettamente al sicuro e gioca con le nostre vite Mentre è sana e salva al suo tavolo di comando Io non ho intenzione di mettere a repentaglio la vita dei miei uomini Lisa Sì? Lisa, sei sicura di star bene? Sì, sto bene Stavo solo pensando, ecco tutto Devo ammettere che Rick aveva ragione Non riesco a capire questo strano codice Ehi Kim, sto ricevendo una trasmissione di messaggi piuttosto strana Forse è un telesignale del quartier generale della Terra Con un messaggio in codice per il comandante Ma la fonte della trasmissione non sembra che sia la Terra Qual è il problema? Oh, ecco, sto ricevendo un comunicato ma non sono sicura che arrivi dalla Terra Bene, allora suggerirei di ascoltarlo, Sammy Sì, signore In nome delle forze centrali vi ordino di arrendervi L'ultimo attacco alla vostra nave era solo un assaggio di quello che potremmo farvi Non avete scampo, se desiderate niente dovete arrendervi subito È un messaggio da parte degli alieni Ripetiamo, in nome delle forze centrali vi ordino di arrendervi L'ultimo attacco alla vostra nave era solo un assaggio di quello che potrete Devo ammettere che sono sorprendenti Distruggono il nostro radar e nell'arco di pochi minuti parlano nella nostra lingua Voglio che continui a controllarli sul monitor, Claudia Che risposta dobbiamo dargli, comandante? Ignoreremo il loro messaggio, una risposta non sarà bendicata Le loro minacce sono un insulto Pensa, Harry, pensa Ha un'idea di cosa faranno gli alieni, comandante? Probabilmente cominceranno al più presto un intenso bombardamento offensivo Lisa, lei andrà in missione di ricognizione Come copertura avrà la nostra squadriglia varia Ma comandante! Lisa! È buffo, vero Maggiore, che sia stato scelto io per farle da copertura? Direi di sì, comunque credo che ce la caderemo Così hanno abboccato al lamo, tocca a noi muovere Attaccate subito! Stanno organizzando un attacco di sorpresa contro di noi Ben, non rispondere Perché no? Lasciali tutti a me La nostra missione è di copertura ricognitore Signarsi Tenente, quattro stormi nemici a ore 8 Ok, Ben, tu continua a seguire il ricognitore Max ed io ci occuperemo degli stormi nemici No, non mi lasci qui, tenente Vada pure, me la caverò comunque Non credo sia prudente che lei rimanga qui sola, Maggiore Ace Posso benissimo difendermi da sola Ora andate, presto Le ho dato un ordine preciso L'ha capito? Come vuole Max, Ben, seguitemi Comandante, il ricognitore ha iniziato a fare le sue ricerche E cosa riceviamo? Beh, è difficile vedere Perché tutti quei frammenti planetari Stanno ancora bloccando i nostri visualizzatori Cambiare coordinate Cambiate, comandante Ehi, secondo me questi ragazzi ci stanno prendendo in giro Ha un piano di battaglia per questo genere di situazione? Torniamo indietro e riprendiamo posizione attorno al ricognitore Sembra che il peggio sia passato Un momento, quello è troppo grande per essere un frammento planetario Fate attenzione Il ricognitore nemico è stato colpito in un frammento Tutti i sopravvissuti devono essere catturati ma senza far loro del male Ricognitore, Maggiore Ace È il capo squadriglia vermiglio Comunichi la sua posizione Maggiore, comunichi la posizione I sopravvissuti nemici sono stati catturati Stanno per essere portati a bordo sul ponte inferiore Tenente Hunter, non deve preoccuparsi per me È meglio che vada via subito da qui Diamoci da fare, Ben Cerchiamo di colpirli da sotto Ehi, Rick Purtroppo credo di essere rimasto a corto di munizioni Anch'io le sto esaurendo Tenente Hunter, si rende conto? Sta disobbedendo ai miei ordini Non è il momento per le formalità, Maggiore Attenzione I microbiali sono penetrati nel settore del ponte inferiore Per far fungire i peggiori Eccellenze, mi aspetti Accidenti, sono rimasto senza munizioni, Tenente Anch'io D'accordo, vado a prendere il Maggiore Ace Poi tenteremo una sortita Maggiore Ace, scorra presto Davvero incredibile Ehi, Ben, spara i tuoi missili a ore 12 Perché? Non fare domande, fallo e basta Ok Lisa! L'ho raggiunta, Maggiore Tenga duro Beh, che cosa facciamo adesso? Cercate di forare una presa d'aria con i vostri laser Ma dovete farlo in fretta Saranno qui fra poco Bene, Tenente, presto Sì, signore, Maggiore Crede che possa scendere adesso? Se vuole potrà mirarmi più tardi Oh, beh, sì, certo Ecco fatto Ricca le ginocchia di gelatina Quando si tratta del Maggiore Ace Già, ho notato Ricco, i nostri laser si stanno surriscaldando D'accordo, tu hai ben cambiato posto Vedete se serve a qualcosa Spero proprio che funzioni E che riusciremo ad andarcene da qui Quattento, Ricco!